Rieccoci! Il grosso della discussione di giornata da parte dei tifosi del Milan è farsi sentire o non farsi sentire. Società assente, non società assente. Il tema è questo, un tema forte che i tifosi nostri propongono con forza, no? E' chiaro che alla fine della partita ti viene voglia di spaccare tutto, a tutti, a tutti i livelli. Però poi bisogna ragionare su questo, bisogna ragionare bene su questo. Io voglio affrontarlo questo tema, cercando di dare conto delle posizioni e delle sensibilità di tutti. Prima lasciatemi presentare alla vostra attenzione OneFootball che ha una app ricchissima di contenuti ed è soprattutto gratuita. L'app di OneFootball è nella descrizione di questo video, c'è il link, scaricatelo. L'app di OneFootball è a vostra disposizione, l'app di OneFootball è gratuita per i contenuti testuali, contenuti video e gli highlights. L'app di OneFootball vi aspetta. Ragazzi, in 23 anni di Milan, soprattutto i primi 17, ne ho fatti tanti di dossier. Il giorno dopo un episodio arbitrale, l'elenco, il cassetto delle doglianze. Per carità, serviva alla pancia, serviva a sfogarsi, ma ero io il primo a voler invece pensare alla prossima partita, riscattarmi piuttosto che pensare che il dossier, il farsi sentire potesse avere degli effetti pratici. Ora, il tifoso nostro, quando io facevo i dossier, la posizione dei tifosi del Milan era che il Milan deve avere uno stile che non è quello di protestare, che non è quello di lamentarsi, che non è quello di piangere, che non è quello di fare vittimismo, ma di giocare bene in campo. Quando abbiamo fatto le proteste arbitrali negli anni, io parlo dal 1999 in poi, prima ho memoria, ma era tutto diverso. Dal 1999 in poi, quando il Milan ha preso dure posizioni sugli episodi arbitrali, non sempre, anzi molto spesso i tifosi del Milan hanno contestato, perché la posizione era i vincenti pensano a migliorare i loro errori, i perdenti pensano agli errori degli altri. Leonetti, credetemi, a decine e centinaia di questi messaggi e di questi posti. Sono stati tanti episodi, ricordo, ricordo tanti, tanti, tanti episodi, quel rigore di paparesta nel 2001 in Milaniove, ricordo, ne ricordo tantissimi ragazzi, tantissimi, tantissimi. Quando facemmo la polemica nel 2004, sulle dichiarazioni della Lazio, sugli arbitraggi del Milan, oppure dopo quello che era successo a Bergamo nel 2006-2007 con il gol annullato a Gorkuf dall'arbitro Pieri, oppure nel 2007-2008 un Milan Torino 0-0, un clamoroso rigore di Natale inondato, c'è tantissimi. La punizione di Parolo di Parma a Milan 3-2, battuta 8 metri più avanti, ne ricordo tantissimi. Adesso poi me ne sfuggono altri, figurate il gol di Montari. I gol di Montari abbiamo fatto un casino pazzesco. Domanda, a cosa è servito? Poi abbiamo avuto altri torti arbitrali e il campionato non l'abbiamo perso per i gol di Montari, ma per problemi nostri interni. Quel campionato 2011-2012 non l'abbiamo perso per i gol di Montari, l'abbiamo perso per nostri problemi interni. Togliamoci dalla testa che abbiamo perso il campionato per i gol di Montari. I gol di Montari è a febbraio. A fine marzo avevamo quattro punti di vantaggio sulla Juventus, ma eravamo spaccati al nostro interno e la Juve lo sapeva, abbiamo perso lo scudetto per quello. Ora, ho letto anche l'avvocato La Scala che mi ha strappato dopo una notte incredibile, un sorriso con il tweet sul prenderla in quel posto. Per carità, è un tweet. Ho visto dei tweet onestamente, onestamente. Il mio amico Alessandro Iacobone, il mio amico Auro Palomba, vi voglio un bene dell'anima a tutti. Io non sono, proprio adesso vi metto a fare le prediche, allora chiudete tutto. Ma calma ragazzi, calma, 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 calma. Invece l'avvocato La Scala mi ha fatto veramente sorridere sul prenderla elegantemente in quel posto. Io credo una cosa. Il tifoso del Milan si sente fortemente perseguitato, per cui vuole vedere la società. Potrebbe anche essere che la società nel rispetto delle istituzioni. La nostra società pensa che farsi sentire non debba venire davanti alle telecamere. La nostra società pensa che una società è autorevole nelle sue relazioni istituzionali se si fa sentire nei momenti opportuni, nelle sedi opportune, con i toni opportuni. Quindi questo è quello che pensa la nostra società e lo fa. Quello che pensa al Milan oggi lo fa. Il tifoso vorrebbe che il proprio sfogo venisse amplificato dai suoi dirigenti, dal suo management, dalle sue persone. Le cose Stefano Pioli dopo la partita le dice. Le dice. Però Stefano Pioli non può permettersi, ragazzi, di dare il messaggio alla squadra che abbiamo perso solo per l'arbitro. Perché se no, se poi rifacciamo la stessa parita che abbiamo fatto con lo Spezia nelle prossime, poi è un bel guaio. Perché con lo Spezia abbiamo sbagliato troppi gol. Perché con lo Spezia, il cui provvedel, il portiere è stato il migliore in campo, perché con lo Spezia, dietro, quando è entrato Gudelo, abbiamo ballato. Abbiamo ballato. Certo. Non avevamo cambi difensivi. Non avevamo cambi non difensivi. Non avevamo cambi difensivi. Perché sai, avessi avuto un difensore in più, lo metti e gestisci. Perché quando è entrato Gudelo e è cambiata la parita, tu dici entrato Maradona, con tutto rispetto per il PIB. Ma se tu dietro sei contato e sei giovane e a centrocampo sei contato e sei un po' stanco nel secondo tempo, se cambia, loro cambiano movimenti, non c'è più Manai punto di riferimento, c'è un altro che guizza, perdi quelle due o tre palle della partita e su una ti fanno gol. E quindi noi nei primi venti minuti del secondo tempo abbiamo ballato, ragazzi. Potremmo perdere anche secondo. Poi abbiamo fatto l'assalto finale, avevamo fatto il nostro gol. Quante partite abbiamo vinto così? Ricordo il Milan-Geno 2-1 di Romagnoli. Tante partite vinte così. Ricordo il Milan-Lecce 2-1 di Inzaghi. Romagnoli-Zaghi andò a esultare dall'altra parte. E poi al ristorante dopo la partita mi disse tante cose su Ancelotti. Io lo lasciamo parlare. Sì, sì, va bene, va bene. D'accordo. Va bene, va bene, va bene. E poi avrebbe segnato la prossima. Però, alla fine la partita l'avamo metto. Però, ripeto, noi dobbiamo capire che dobbiamo essere più scaffati quando cambia la partita in difesa, come assetto difensivo, e dobbiamo stringere i denti di più a centrocampo durante le nostre partite e anche nel secondo tempo, perché nel secondo tempo un po' Bacaioco è calato, un po' Crunic è calato. Io sono convinto che con Tonali in campo, ma non voglio buttare la croce addosso a Bacaioco e a Crunic, sia ben chiaro, con Tonali in campo, Tonali lo prende lui verde, poi non so come va l'azione. Certo che Calulu o Gabbia o Chiperesso, tutti noi undici, perché si vince in undici, si perde in undici, si fa gol in undici, si prende gol in undici, a Gudero l'abbiamo perso. È lì, perché quella partita lì la devi tenere solo 1-0. Però, ripeto, per non deviare dal tema, i tifosi vorrebbero una presa di posizione forte, affilata, accuminata da parte della società davanti alle telecamere, per sentirsi rappresentati. È una richiesta legittima, è una posizione legittima. Io ripeto, rispondo e ricordo che il Milan, le cose che chiedono i tifosi, le fa, le fa, con i dovuti modi, con il rispetto, perché se tu hai qualcosa da dire alle istituzioni del calcio, arbitrali comprese, glielo dici direttamente. Perché se tu lo dici in tv, lo dici alla tv, che poi lo amplifica e arriva alle sedi istituzionali. E sono convinto che le scuse dell'AIA dopo la partita di ieri sono arrivate anche per la correttezza di rapporti che il Milan ha con gli organi istituzionali del calcio italiano. Sono convinto di questo. Altrimenti si poteva fare ammenda in un altro modo. Quindi è tutto legittimo. Io capisco gli sfoghi dei tifosi, però ai tifosi mi permetto di dire, come opinione personale, senza rappresentare in nulla e per nulla in questa sede il Milan, che il farsi sentire Milan ha sempre fatto. Sempre. Indistintamente. E continuerà a farlo. Ciao a tutti e a domani.